Musica Ciao a tutti ragazzi di U66 e benvenuti in questo nuovo episodio di Impact Flux Allora in off camera ho fatto questi 27 wheat che ora andremo a craftare Cioè trasformare precisamente in panini noi panini e dovremmo craftarne altri No pensavo fossero completi Allora sostanzialmente dobbiamo finire quei 16 panini che ci sono richiesti per la quest E quindi serviranno ancora due panini, li odio Perché davvero fare i panini non è il massimo della bellezza di tutto Insomma è davvero brutto fare i panini È una brutta cosa Davvero troppo Ok comunque buttiamo questa roba Abbiamo un po' di wheat Ci facciamo quindi gli ultimi due panini che ci servono Che sostanzialmente sono stanto di crafting e non dovremmo darli Quindi interemo per noi E tadan Tadan l'abbiamo fatti Ora ci viene a fare tutta questa roba E sarà un bel problema Tipo pumping bread Tutti i bread dovrei fare Tutti questi quindi vanno cotti Perché come sapete tutti hanno un modo di essere fatti Ma faccio dei dot che si fanno con tanta roba Tra cui la farina La farina si fa con la wheat E in cera si può fare anche con le patate Però vabbè Non è più facile farla con la wheat a questo punto Ma in teoria dovrebbe essere fatta anche con No non si può fare con l'altra Peccato E quindi Servirà a fare un bel po' di roba Ci servirà del milk Che abbiamo Ci servirà un tofu E tanta roba Tanta Troppa Comunque Fatto sta che per il momento lasciamo questi panini Prendiamo giusto un po' cosa da mangiare Che al momento Ci servirà tipo Che ne so Uno di questa E dovrei Non aver mangiato nemmeno No questo è ancora da mangiare Merda E questo va bene Ok E allora Dobbiamo un attimo fare un paio di quest Più o meno Elettroniche E Sono quelle che abbiamo Per esempio Nella factory churning Che è quella più importante Voglio fare questa parte Prima di basare le altre Però magari Potremmo farci questa qui La One lonely capacitator Che è molto semplice Perché dobbiamo fare soltanto questi Basic capacitator Che A fin fine sono Una facilità assurda Guardate come si fanno Cioè Facilissimo Abbiamo abbastanza gold Abbiamo tutto ciò che ci serve Quindi Facciamolo Magari non abbiamo soltanto Del copper Ma quello Più o meno Si può rimediare Tranquillamente Anzi Mi sembra Stanno che non abbiamo Davvero abbastanza Vabbè Fa nulla Comunque Mettiamo un po' Mancerare Il nostro copper E Da questo copper Poi avremo Stato perché dobbiamo cuocere Otto in totale Mi sa che non ce la facciamo Sapete Copper Cattivo Non vuole essere Craftato Vabbè Prima di momento Comunque possiamo prenderci Questa roba Possiamo prenderci un po' Di redstone E Andiamo Andiamo qui per esempio Ok Ci facciamo quindi Un bel po' di questi Facciamo in questo modo 7 e 7 Per il momento Ok Ne abbiamo fatto un paio Che sono più o meno 6 per il momento E Ci serviranno ancora Altri 9 No Altri Si altri 9 Altri 9 Quindi mi sa che mi servirà Molto più di questo copper Stanto un pezzettino in più Probabilmente Oh mio dio Davvero un pezzettino solamente in più E Wow Un pezzettino in più Che potremmo comunque trovare Tranquillamente un po' in giro Se ne andiamo Se ne andiamo a cercare di qua Sapete Tipo livello 40 Più o meno dovrebbe essere Se non hanno cambiato il config Tipo qua In genere Fino a livello 40 Possiamo trovare del copper Tranquillamente Cercandolo manualmente Quindi un po' più semplice Come cosa Non ho delle torci Quindi ci accontentiamo Di questa vista Del nulla Mi dispiace Post produzione Probabilmente farò qualcosa Non ne ho ni idea Perché tipo In genere non faccio Post produzione Gigantesca Mi ha trovato tanto la tin E niente Copper Wow Bella roba Davvero c'è Non c'è un pezzettino di copper Copper Where are you? Alluminio Niente Mi sa che il copper Ha detto no alla vita Mi ho trovato Altra roba Ferro Tanta roba Della towncraft Ma niente di quella Cosa chiamata copper Perché Oddio osmium Tutto sto trovando Tanto che il copper Wow Bellissimo mi dicono E in teoria So un posto Dove posso trovare Il copper Sapete Però Non so se andarci Velocemente Andiamo un po' Se siamo fortunati Magari lo troviamo qua Copper Dove sei? Limestone Della chisel Che non ci interessa Si so che lo mette Una mazza ragazzi Ne sono certo Di questa cosa Osmium Ancora Niente ragazzi Proprio Zero fortuna Mi sono di trovare Ho trovato tutto ciò Che vogliamo Ma non il copper Quindi Ne Peccato Ok ora La nostra saturazione Se ne sta andando di brutto Anche perché Vedete stiamo correndo Più corriamo La saturazione Se ne va Tranquillamente Ma a noi Po che importa Allora Niente Visto che abbiamo trovato niente Ho un'idea Ho un'idea Bella e buona In effetti E Lasciamo di tutto Questa roba qua Ok Questi qua non li sto rompendo Perché sto aspettando un piccone Con fortuna Che potrebbe essere Un'ottima idea Forse Ma dico proprio forse Abbiamo Un po' Di copper Qui dentro Ma Penso sia Forse Molto forse Niente Nel momento comunque Dovrebbe aver costo Tutta sta roba Quindi magari Facciamocene Alt Questa cosa Tanto mi si era Comunque Dal gold 7 8 E 9 Perfetto Prendiamo un attimo Un paio di gold Avevo un paio di nugget Pure qui Quindi tranquillamente Possiamo farci così Ok Aspetta che facciamo In questo modo Perfetto Ottimo Abbiamo in totale 14 Ce ne servono Un altro in più Ce ne serve Wow Ok Mi si è avviato il copper E solo dove trovarlo Ragazzi Bam 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 Non di notte però Perché potrebbe essere Una pessima idea Uscire di notte Quindi Nanna veloce veloce Nanna go go Non so se hanno fatto un update Del modpack Anche perché io Sto giocando sul multicraft Però probabilmente Lo controllerò Perché secondo me Ci hanno fatto un update Quindi dovrò andare a controllarlo Quasi sicuramente Allora Dovrebbe esserci un po' di copper Qua vicino In teoria Devevo stato uscito Oddio Cos'è la L'unione dei creeper È lì Mi farò esplodere Se almeno faccio prima E non Non ho problemi Di nessun tipo Ok Perfetto Mucca Esplosa E lì c'è un creeper Scuro Aia Aia Magari Riusciamo anche a killare Sto coso Ok Il creeper scuro Non sembra Fischiarsene di me Abbiamo trovato un po' di copper Anche qui Nice Ok Invece di andare un po' in giro Oddio Fa anche un bel po' di male In effetti Quell'ender creeper Però fa nulla Ok So che non l'avete visto Nemmeno qui Tutta questa parte Perché tipo Il buio ci assale In un modo assolutamente Figo E Ah Ho alzato un po' Un po' di microfono Visto come ti ho detto Che è un po' bassino In effetti Mi sono accorto anch'io Anche perché Non mi ero accorto Del fatto che stava a 11 Cosa che In effetti è strana Perché In genere Non scende Cioè non scende Non sale sotto i 14 Quindi la cosa Mi preoccupa abbastanza Uh guarda Abbiamo messo la cottura lì Ok Mettiamo sta roba Magari Tipo leviamo l'uscita Da qua sotto Perché Non è giusta Ok E Mettiamo qua C'è la nostra Bellissima Fantastico Il nostro bellissimo Fatasmo copper Ok E siamo pronti Quindi a finire Un'altra parte Della quest Che Ah giusto Che non l'ho fatto Perché senza Avete arrivato tutto Stupido Ulisse Ok Perfetto E ora Tassioniamo tutta sta roba In gold 5 gold Perfetto Ok Abbiamo tutto necessario Quindi adesso E siamo pronti A fare un sacco di cose Questa è test latite Vabbè Comunque Qui quest fatta Prenderemo Eh Non ho idea Di cosa potremmo prendere Lo sterling engine Funziona Sta qua sta Dicevo Sterling generator Funziona In un certo modo Il combustion Invece Non ne ho la minima idea Di come possa funzionare Quindi Io andrei per il combustion A questo punto Ok Tanto l'elettrica Si ce lo da E ci dice che Burn Ah ok Liquid fuel Perfetto Quindi sostanzialmente Ok Ok è buono come energia E Non so se Anche l'acqua Boh Non penso Probabilmente Lava a caso Molto probabilmente Comunque Fatto stack E abbiamo fatto anche La stock mill Perché tipo L'abbiamo richiesta Andrei per I condotti Byron Sapete perché Perché mi ci aviranno Insieme a questi Darksteel ball Ottimo E vediamo un po' Cosa altro c'è Alloi Alloi mi Proprio cattiveria The fat Oh Questa è una cosa Fantastica da fare Perché è molto bello E È tipo Una cupola Che serve a tante cose Tante davvero E Potremmo fare questa parte E questa della Louise Mantel Perché la Louise Mantel Poi non abbiamo tutto Quando si fa Tipo in un modo Abbastanza Così tanto complicato Quanto pensate Topper Cioè È facilissimo Se vi raggio Magari un po' di ferro in più Che dovremmo avere Ok E dovrò lasciare Un po' di roba qua Perché tipo Ne ho Troppe di cose Ok E Allora Dicevamo Ci servirà un po' di copper Dovrei averlo Cotto quasi tutto Infatti è cotto Più o meno tutto Invece No Solo macerato Ok Mi servirà un po' di questi Mi servirà un po' di stone Ce l'abbiamo Quella non è un problema Mi servirà anche Della cobblestone Otto precisi Proprio Oggi Mi vogliono bene Le persone Ok E mi servirà a fare Due di questi Perfetto Ok Poi dovrò farmi Un attimo Delle Piccole cosacce Che dovrei Già avere Quelle qui Le nostre iron bars In un'ora che Tipo le abbiamo rubate E vediamo un po' Se indovino il crafting Dopo tipo Milioni e milioni di volte Che lo faccio No Come sempre Sbaglio Ok Abbiamo il nostro Machine chassis Ok Mi servirà anche Un po' di red Non sbaglio No non sbaglio Perché servirà altro Ok Uno Due Uno di questo Due di questi Un coso di questo Qua Uno di questo Qui E poi vabbè Solito copper Che non manca mai Nella nostra produzione Di materiali Ok Allo smelt Che devo sedire Più o meno Qua per il momento Ti devo farmi una camera Tranquilli ragazzi È in produzione Per il prossimo episodio E Sperate che devo fare Una cosa anche Sei di questi Un diamante di qua No Vujia Mi serviranno sei di qua Mi serviranno stanto Le glass Ok E ci facciamo Una cosa molto buona Sinceramente Ah Era contrario Scusate Se viranno due diamanti E un gold Ok No ho sbagliato Ancora Perfetto Abbiamo il nostro Gold to diamond Bam Oh Molto meglio così ragazzi Ma molto molto meglio Perfetto E Dicevamo Allora abbiamo vado a questa parte Dovremmo vedere Cosa prenderci Io andrei per sempre Conduttivi Perché ci serve Come ci ho detto E Non voglio usare il ferro Nel meno la redstone Che comunque In parte Abbastanza Però Non sempre E Potrebbe essere utile Averne di più Sempre di redstone Allora Se virà a fare Insolite redstone Conduit Ok Mi darà questi Vibrant Vibrant Sono fantastici Perché se no Prendoli per forza E Devo fare Double layer Capacity Oh mio dio Qua sarà un problema A fare Potrò fare anche Fluid Qui abbiamo Fluid tank Nice E abbiamo anche L'item Conduit 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 Sì E conduit E Allora Facciamo così Andiamo per Questi qui Mi servirà un po' di gravel Ragazzi Gravel 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 Dovrei averla Ovunque Gravel Ok Se non sbaglio Era la gravel Con Sand Ok E clay Oddio La clay Ora non so Se l'ho presa Tutta L'ho fatta No Ok Meno male Ok E la sand Va bene Abbiamo Bizzef Qua Perché Tanto Le quest Ce le danno Come se non ci fossero Domani Quindi Oppi Ok Mi va Tanto uno Posso fare Mi va bene E sopra qui sono Ecco perché Li sento troppo vicini Ok E Allora Va cotta Sta cosa Qui dentro Leviamo L'uscita Da qua sotto E manca di qui E Ok Questi Binding Ci serviranno Per fare un sacco Di cose E Allora Abbiamo tre Ne dovrei avere altre tre Sono bello qui dentro Perché Sì Ne abbiamo fatti parecchi Ottimo E Se vedete Possiamo farci anche L'armatore in duck steel Trebbe essere Avrò un'ottima idea Quella E ok In questo modo Avremo a disposizione 8 cavi Serviranno 32 Quindi Serviranno parecchi In effetti E Di questi conduit Anche Ok 8 8 16 Mi serviranno ancora Un paio di cose E quindi No smelter Ha bisogno di energia Solo che adesso Non so bene Eh Dovrei aver fatto Altri survival Sapete Dovrei averle Cioè da qualche parte Tipo Non qui Non qui Qui Nah Forse qui Forse qui No E Dove li lasciate ragazzi Ve li ho dati direttamente Ma non penso Perché In effetti Dovrei poterli Ancora avere E Le steam dynamo Non sono il massimo Cioè per caricare Nostra energia Al momento No Mi sa che li ho dati Quindi Mmm Britta cosa Ok Eh Va bene Possiamo Pur sempre Usare un piccolo metodo Veloce veloce Per poter fatto quanto Però Tollere questo Prendere questo Che Si rompe in un modo assurdo Perché tipo ci vuole un po' di tempo Ok E Ci mettiamo questo Le smelter qua vicino Così almeno Diamo energia Bam Energia fu Ci servirà della redstone E Redstone 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 Eccolo qua E Ferro Ok Questo coso non dà niente E' vero Il basic capacity Mi servirà sicuramente Fare quello dopo Mi servirà quindi Aspettare che vi faccia adesso Questi piccoli lingotti Che ci metteranno Un'eternità a fare E nel mentre Magari vi faccio vedere Che con Gli altri Che abbiamo preso Dove sono Dove sono Ho mia idea Non li abbiamo presi Mi sa Mmm No Non li abbiamo presi E vabbè Comunque stanziamento Devevo farci Ehm Altri conduit Quelli che danno redstone Che si fanno così Con redstone alloy Che si fa con Silicon e redstone Ora Silicon Si può fare in vari modi Tra cui anche la sand Quindi magari Prendiamo direttamente la sand La mettiamo dentro Qua Ok Abbiamo molta probabilità Che esca il silicon E anzi Con la flint Miglioriamo questa cosa Quindi magari Se riusciamo a trovare Un po' di flint Vi faccio vedere che Ehm Possiamo ricevere Molto più facilmente La roba Non so dove è la mia flint Probabilmente tipo Non ne ho mai avuta Abbastanza O comunque l'ho buttata In un modo assurdo Flint Vabbè abbiamo un po' di silicon In effetti anche qui Quindi magari Potrebbero non essere Meno utili Vabbè comunque Mi sto facendo un po' di silicon qui Ok Guardi abbiamo fatto altri due Mi serviranno comunque altri Sicuramente Più di due Mi serviranno Altri quattro Più o meno Ok E Con questo abbiamo fatto questa cosa Mi darà anche una Rater wrench Che è una wrench Per tutti i macchinari Justamente perché funziona Per compatibilità E possiamo fare Il led generator Della meccanismo Che produce sempre energia Quindi energia proprio Abizzef ragazzi Una cosa assurda E sarà una bella cosa Poi andare anche nel led Ragazzi E Oh compressione Non ingot Perfetto Voglio farci Il ledstone Se abbiamo un jet A controverso un'idea Quasi quasi Perché tanto dovremmo Eh Però non c'è un modo Di recuperare l'energia Collante fuel E Non so bene Cosa posso utilizzare Per dare energia Non penso ci sia nulla Eh comunque Allora vorrei fare un attimo Questa qui Quella No dov'è Questa qui No non è questa Ok Una di queste Che mi da il capacitator Perché il capacitator È molto molto utile ragazzi In quanto potremmo fare Poi anche Tutto il resto Che vogliamo Ovvero Il nostro jetpack E così possiamo anche Ricaricarlo Tranquillamente È l'unico modo Per farlo È da 12 vero Sì 12 No mi da seme Mi ne da Ah Andiamo un po' Ce la facciamo Mi servirà ancora un altro Comunque mi servirà un sacco di robe Troppe robe Troppe robe Davvero troppe E Eh Sticknight Ma questo ci devo vedere ancora Che cavolo si faceva sta roba E abbiamo anche la salad Drinks Vedete che l'apple Eh per esempio l'apple possiamo farcelo Dovremmo avere abbastanza apple Per poter farci Quella cosa Dice qualcuno E no Te devo mettere le trocce sopra ragazzi Potrebbe essere un'idea Ok un apple Poi quest'altro serviva Apple Pomegranate Grappfruit Fig Grapp Allora Fruit Fruit punch No Era Grappfruit Che si fa con Ah vabbè Tantamente quei cosi E io dovrei averne Solo Una di orange È orange vero Ah no è proprio Grappfruit Non so Dove sia Probabilmente tra questi Cosi c'è un Grappfruit Non ne ho la mia idea E Sì Probabilmente c'è Molto probabilmente E cos'altro c'era Cos'altro c'era Vediamo un po' Pomegranate Pome Che si fa con Pomegranate Eh questo mi sa che ce n'è uno O no È una plume No è una plume C'avevo è vero E juice Tutti juice Sono fin fine E probabilmente mi chiederà di fare altre Il fig Il figo Presumo sia il fig Che brutti nome ragazzi Poi mi sembra c'è anche Lo yogurt Lo yogurt Perché Sì è un figo quello E No Non abbiamo abbastanza alberi ragazzi C'è un Vanilla sapling Ah è senza nulla Stanzialmente Vabbè Insomma cose inutili Comunque dobbiamo captarli tutti E ci vuole avere un sacco di tempo Ora poi Fa tutto quanto Perfetto Eccoli qui I nostri piccoli cosi Ok 32 Nice E abbiamo anche capacità Ora adesso Quindi Ottima cosa Andiamo qua L'ho craftati Le regi conduit Le ho craftati Mi diceva crafta lì L'ho fatto Amico mio L'ho fatto Le ho craftati In questo modo Ora Non mi direi che Non è valido Perché non stavano qui Perché è la stessa cosa Ragazzi Questo è un regi conduit Allora C'è un questo modo Probabilmente non le ha presi È strano Ma Vabbè Comunque Sessualmente facciamo questo modo Li buttiamo E ci prendiamo Questa roba Conductive iron Mi serviranno Mi serviranno 12 Non so perché non le ha presi Davvero È una cosa bruttissima E 16 di questi Ok perfetto Probabilmente La crafting è stupida Sì Probabilmente Ma è strano Anche perché le altre cose le ha prese Vabbè Non ho ni idea Ok Dio un po' Ora le ha presi No no Ora si Come sei Dice di craftarne Di craftarli 12 32 volte Cioè Non ho capito Ne vuole 32 O vuole che le craftiamo 32 volte Ragazzi Non ne ho la minima idea La cosa mi spaventa Abbastanza Troppo Ok Lasciamo stare per il momento Scopriremo se vuole Che le craftiamo Tutte quelle volte Oppure no E Oddio Posso fare questa roba anche Sarà un problema Oh mio dio Lunghezza Portami via Avrò un sacco di cave ragazzi Troppi cave Non saprò cosa farmene Questo olio mi servirà Tanto anche Anche questo segnale Uh E Magari 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 Sapete cosa possiamo fare Facciamo questa Ledstone Energy cell Ledstone Ok E Così va Copper Redstone Ma è una stronzata Copper Gold Redstone Era così giusto Sì E vabbè Led sostanzialmente Perché mi servirà E il led Non l'ho mai macerato Però Sì Non l'ho mai macerato Ecco qua Led Macera Led Sì macerato E macerati Perché sei una cosa bella Più o meno Cioè diciamo sì Più o meno C'è la led E un blocco di red Vabbè Il vetro ce l'ho Non è un problema Ok E Dove è la mia fornace Usiamo questa Penso vada bene comunque E Qua ricapta Cioè li cuoce tra la volta Quindi C'è un po' di vista E' buono Fare in questo modo Ok Mi servirà uno di questo Bam Ok Vetro 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 L'ho lasciato qui sopra Quindi quattro di questi Yep Ci vorrà davvero Nient'è niente la falsa roba Oddio Ottimo pezzo Fai veloce Dai bello Dai bello Ok Nice 4 1 2 3 4 Uno di questo E 4 vetri Ok Poi mi servirà Uno di questo E si fa tranquillamente 1 2 3 E uno di questo E non era questo Vero? No Probabilmente Battlecrafting Vero? L'headstone No 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 Ah Copper Ah L'electrum Vero Ce l'abbiamo Un'electrum Si Ok giusto Perché deve condurre Ricevere Da l'energia Quindi si usa il conductive Per forza E' giusto Questo qua Lo otterremo Questo reception Se servirà per altre cose Per altri crafting Sicuramente Ok Eccolo qua L'headstone Ora mi chiederei Fare quello dopo No Ok perfetto E Allora potremmo vedere Tuberos pack Ma No Si Potremmo anche vedere Clever But No Survivor Ok Potrebbe essere Una bella cosa Coal Chircoal Wow Ok Bam 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 Ok E Allora Allora Questa cosa L'abbiamo fatta Perfetto Il problema E che Adesso Allora Questa qua Possiamo mettere Tipo L'energia qua Per esempio Potremmo ricevere Energia in qualche modo Facendo così Dovrebbe ricevere L'energia Perché non riceve L'energia Dovrebbe Per dare il blu Per ricevere L'energia Vero Si Probabilmente Perché tipo Non va bene qua E Dove Dove romperla Normalmente Dove rompere Anche sto coso Rompiti Bello Rompiti Sei inutile Ok Wow Perché Ah perché Proprio non c'è Energia È giusto Non appartisce Abbastanza Energia Io Ricordo Di aver avuto Dei Survivors Da qualche parte Basta Deve Deve Sto coso Deve dare Energia A questo No Vero Niente Non vuole fare Nulla ragazzi È stata una brutta cosa Vabbè Niente Energia per il momento E Andiamo a provare Questo tuberos Ragazzi Anche se io Più o meno Penso che ci sia Qualcosa di brutto Questo tuberos Per tutto Andiamo a farci Una nanna Perché Morte Certa Ci attende E abbiamo Solo 6 vite Quindi non rischiare Se non È necessario E con questo Certo Perché possiamo volare Per Una merdata Allora Tipo Allora con M probabilmente No come Com'è adesso i comandi Qua sono diversi Da quelli che ho Io nella Ulisse Craft E Vediamo Un po' Belli I comandi Che sono Messi male Anche perché Genenele Ci sono sempre Problemi Questi comandi Sono una cosa Assurda Dove ci stanno Dove ci stanno Dove ci stanno Allora abbiamo Noi J E K Se non sbaglio Sì Ok Eh Devo fare Don vero Sì Mi sa di sì E Prima ma Ah no Ok ci sono Perfetto Don Perché non Vola Ehm Ok Quello che avete visto È un trolling Molto trollo Che cosa sei te Un trolling molto trolloso Di come Possevamo Morire L'ho sospettato Perché avevo già provato In un altro modpack E quindi Odioso Pensavo funzionasse meglio Invece No La gente è cattiva Non funziona bene Certe cose Quindi Stanzialmente Siamo solo vissuti Non so bene come Ma siamo solo vissuti E questa cosa Mi fa molto piacere Perché Così non abbiamo perso vita E una vita in più In effetti Ci sarebbe stato utile Quindi meglio tenereci le vite Ah Ok Di frattempo sto facendo anche un po' Stragi di mob a caso Perfetto Allora Penso che Dopo la dimostrazione Del fatto che non dovete usare Tutto ciò che vi danno Vi danno i piccoli cosetti Siamo a posto Mi raccomando Non fate certe cose a casa Perché potrebbe morire Potreste morire anche Poi E non è una bella cosa Per adesso vi saluto Ci vediamo nel prossimo episodio Per questo notte sia tutto Ciao Ciao ragazzi Ok ragazzi Prima di concludere l'episodio Ho notato una cosa interessante Guardate qua Completed Bam Claim reward E abbiamo anche da dare meloni Keeper Tanta roba insomma qua Ma non ci interessa E Oh Altri sapling Wow Che belli sapling Bam Ciao Ciao Ciao